Esiste un tool molto utile che ho trovato di recente, l'ho anche provato e testato anche su altre diverse simulazioni che funziona veramente bene e ci permette di salvare molta RAM in fase di salvataggio Ad ogni modo su questo portatile ho un portatile con 16 GB di RAM con un sistema Windows e volendo ho anche un sistema Linux però questo è un altro discorso a parte, difatti se si utilizza Linux si ha una ottimizzazione anche differente sia dell'utilizzo della RAM che di tutta la macchina in sé per sé ma questo appunto è un corso e un discorso totalmente differente ad ogni modo bisogna trovare un sistema per poter anche migliorare un po' le prestazioni in alcuni casi dico in alcuni casi perché non sempre si può utilizzare questo sistema quando ci sono delle simulazioni molto banali, molto semplici, questo sistema non è di aiuto quando invece le simulazioni sono un pochino più complesse questo sistema potrebbe essere di aiuto di cosa sto parlando? Sto parlando non tanto di mandare tramite il save to disk in background che comunque potremmo anche chiudere Udini e continuare a lavorare su altro l'altro sistema è quello di utilizzare un command line un command line è praticamente un sistema di riga di comando, difatti command line e che troviamo anche nel menu se voi cliccate sull'icona di windows se siete su windows oppure su quella del mac o quella di linux andate a vedere sotto la voce side effects troverete Udini command line command line vi si aprirà un sistema di questa questo ha un terminale sostanzialmente in questo modo dove noi andremo a caricare poi dopo un piccolo script ok? Quindi da qui potremo lanciare il nostro render ho trovato su serenazione di una mia collega un carissimo script che praticamente è di Michael Elton spero che si pronunci in questo modo che praticamente si può acquistare anche gratuitamente ma io gli ho comunque donato qualcosa perché rispetto il lavoro che è andato a fare praticamente lui ha realizzato questo script in python questo script in python che si può tranquillamente andare a inserire in una shell che è personalizzata io me la sono personalizzata qui mi sono creato un edit tools questo script questo script una volta inserito qui si va a creare sostanzialmente un tasto che premendolo apre questa interfaccia questa interfaccia ci andrà a generare un sistema un cmd per poi dopo andarlo a caricare quindi poi dopo andarlo a caricare tramite il command line in questo punto io apro il mio command line e scrivo hscript aperta virgolette e ci posso trascinare questo file chiuse virgolette e invio ho realizzato dei test utilizzando questo sistema e mi sono trovato molto bene io vi consiglio comunque di darci un'occhiata e date un'occhiata anche al video che ha realizzato Michael perché è fatto veramente bene può essere molto d'aiuto qual è uno dei vantaggi che io ho trovato rispetto a utilizzare il tasto save o save in background è il fatto che lui una volta che quindi mi quando ha finito di fare il calcolo svuota totalmente la ram e quindi poi se per esempio utilizzava 10 giga per fare la simulazione quando poi arriva al termine quei 10 giga sono scaricati completamente quindi avete una macchina che comunque è abbastanza leggera è un sistema che si può utilizzare anche su delle macchine un pochino più datate magari dei sistemi di che utilizzate come render farm anche se in maniera impropria però potete utilizzarli per esempio per su macchine appunto datate potete mettere vari sistemi varie scene e poi aprirle con un con un bench in questo modo dal command line e poterle renderizzare senza per esempio avere bisogno di avere una grandissima scheda video perché comunque la scheda video non va a incidere su tale calcolo rispetto a dover invece avere aperta l'interfaccia che tutte le volte invece va un attimo rinfrasciata e quindi c'è anche un vantaggio a livello sia di scheda grafica sia anche di salvataggio di di ram in fase di di lavorazione è un sistema appunto che vi consiglio magari se avete anche una seconda macchina che non è performante magari mentre impostate determinati aspetti su una macchina sulla workstation principale sulla secondaria potete farti fare dei calcoli lanciandoli lanciando anche vari job magari ne lanciate prima uno tramite command line poi riscrivete age script aperte virgolette e inserite al suo interno l'altro cmd e di conseguenza andrete via via a realizzare tutti grazie a tutti Grazie.